I belle queste manifestazioni, queste piazze che si riempiono di persone in modo spontaneo, con voglia di esserci, di partecipare, contro chi alimenta rancore nel nostro paese, ma anche per. Io mi auguro che siano movimenti per, oltre e contro, per costruire. Io ho visto una bella piazza, anche nel passato abbiamo visto queste belle piazze che ci hanno entusiasmate, certe volte hanno avuto uno sbocco anche politico interessante, in qualche caso poi si sono liquefatte, però vedere quelle immagini fa bene alla democrazia, secondo me sono belle immagini. E' bello anche, mi auguro, che nessuno tenti di strumentalizzarle sul piano politico o metterci in qualche modo il cappello da sopra. E' bene che siano persone, ognuno ha la propria storia, anonime ma con una carta d'identità.